Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo caso si tratta di un unboxing perché mi è arrivato un pacco e non so perché mi sia arrivato, quindi ho pensato di aprirlo insieme a voi e scoprire che cosa c'è dentro. Questo è il pacco in questione, come vedete è anonimo, qui c'era il mio diritto, ho venuto a coprire, non come l'altra volta che l'avevo lasciato scoperto e quindi direi di aprirlo. Rullo di tamburi, vi ripeto non so che cosa sto per aprire, eccolo qua, qui c'è la carta e qui c'è quello che mi è stato inviato, è uno shampoo in realtà, nulla di eccezionale ma appunto non sapevo di doverlo ricevere, solito aver scritto la Garnier per ricevere dei campioncini, diciamo così, ma non pensavo che mi mandassero appunto lo shampoo antiforfora. Qui c'è anche un piccolo volantino, diciamo così, con Marchesio che posso anche apprezzare da Juventina e niente. Io vi ho fatto vedere quello che ho ricevuto, non è nulla di eclatante, non era nulla di sorprendente, di eclatante appunto avevo scritto alla Garnier per ricevere delle cose, mi hanno mandato questo, quindi vi dovete accontentare. Io ve l'ho fatto vedere, se volete vedere magari una recensione o qualcosa fatemelo sapere nei commenti o magari lasciate anche semplicemente un like in modo da farmi sapere che apprezzate quello che sto producendo. Se volete potete condividere questo video con i vostri amici, vi ricordo appunto che potete lasciare dei commenti appunto per farmi sapere se mi fa piacere quello che sto producendo per ora. Vi ricordo che in descrizione avete i link a tutti i miei social per appunto seguirmi e aiutarmi appunto in questa mia crescita. Noi ci vediamo al prossimo video e vediamo in live!